Che l'infortunio a Davide Parente non fosse come tanti altri, basta aprire un qualsiasi profilo Facebook di appassionati sportivi lucchesi per trovare attestati di stima per il capitano della palacanestro Lucca. Addirittura su quello ufficiale della società campeggia l'augurio da parte della lucchese Libertas, che di fronte a tanta sfortuna ha interrotto il silenzio stampa e pubblicato un messaggio. Non sono mancati nemmeno gli incitamenti a non mollare del gruppo di tifosi del basket Telemuri ai baluari a D, col presidente Tognocchi che auspica un immediato rinnovo contrattuale al capitano. Il messaggio più toccante è quello di Rene, 5 anni, che invia un disegno che ritrae il numero 20 del punteggio di fine partita di domenica con il messaggio Parente guarisci presto. Troppi anche per un duro come Davide, che non avrebbe voluto rispondere per non cadere nella banalità ma che di fronte a così tanto calore non ha potuto che ringraziare via Facebook facendo presente che la squadra resta comunque fortissima e che anzi sarà in tribuna ogni domenica a tipare i biancorossi. Parente venerdì si sottoporrà ad una visita pre-operatoria a Bologna in attesa di conoscere la data per l'operazione che dovrebbe tenersi in settimana prossima. Sul fronte societario con la squadra e appresso che salva già a metà stagione, il patron Alfredo Susanna ha dato mandato al suo staff di sondare il mercato per trovare un valido sostituto che potrebbe essere anche un giocatore passaportato. Non c'è comunque urgenza nella ricerca perché il gruppo ha dato ampie garanzie di competitività ma anche perché l'idea è quella di trovare un elemento che possa quantomeno sul campo compensare la pesante assenza del capitano. La nuova fascia verrà invece assegnata nella giornata di venerdì con gli onori e gli oneri che salvo sorprese dell'ultima ora dovrebbero toccare al decano del gruppo Walter Santarossa.